Di tutte le cose viste sui campi di battaglia della frontiera, il pilota è il predatore per eccellenza. Veloce e agile, leggero ma devastante, perspicace, intraprendente e implacabile. Un pilota vede il mondo in modo diverso. Una semplice parete diventa un'opportunità. Un pilota combatte in modo diverso. Esperto in manovre diversive, anche il più grande svantaggio diventa una risorsa. Ma ciò che davvero distingue un pilota da altri soldati e macchine sul campo di battaglia, è il legame con il suo Titan. Quando è collegato al Titan, può essere fermato solo da una forza superiore o da un suo simile. La frontiera è l'unica casa che abbia mai conosciuto. Per anni l'IMC ha devastato terre, rubato risorse, inquinato e distrutto pianeti, esterminato chi cercava di resistere. Nonostante le recenti vittorie su Demetra e altri pianeti, c'è ancora molto da fare prima di sconfiggere l'IMC. Ora, come fuciliere della milizia, lui combatte per liberare la frontiera. La strada per diventare pilota è ancora rompa. Ma quando quel giorno arriverà, spera di esserne all'altezza. Ci siamo, fuciliere Cooper. Oh, dannazione. La nave deve aver spento e riacceso la capsula di simulazione dall'ultima volta. Va ricaliberata. Così va bene, Cooper. Va bene. Andiamo. Vediamo quanto ti ricordi dell'ultima volta. Imposto collegamento neurale. Non è uguale a un collegamento titan, ma gli assomiglia. Per apprendere nuove abilità bisogna essere predisposti a farlo. Ah, molto meglio. Tecnicamente non ti dovrei addestrare, però vedo del potenziale in te. Andiamo più veloci. Attivazione del jump kit. I jump kit si basano sulla stabilità rilassata. Una volta che il jump kit sarà calibrato con il tuo stile di movimento, noterai una mobilità migliorata naturale. Meraviglioso, vero? È ispirato al mio pianeta natale, Harmony. Sono cresciuto qui. Bene, ora ti stai muovendo. Qua sotto, stai giù. Semplice doppio salto. Segui il fantasma. Abbiamo riconquistato il 25% della frontiera dalla battaglia di Demetria. Ora la milizia è organizzata meglio. Nuova gente si aggiunge ogni giorno per combattere l'IFC. Gente come te. In combattimento, niente va come previsto. Devi essere pronto a usare qualunque arma trovi sul campo. Queste sono alcune delle armi in cui mi sono imbattuto. Andiamo al poligono. Carica la tua arma. Per una precisione maggiore, guarda attraverso il mirino dell'arma. Bene. Esercitati di più se vuoi. Vuoi raggiungere il doppelgine? Bene. Oggi ho un nuovo gauntlet per te. Mi hanno rispettati due minuti. Segui il fantasma o trova il tuo percorso. I piloti devono trovare l'equilibrio in battaglia. La velocità è fondamentale, ma devi anche colpire i tuoi bersagli. Nel gauntlet alleneri più le abilità, finché non le padroneggerai. Non l'aggo Ст— Non l'aggo, maaki knownhi, blunti. Non l'aggo, ma devi anche colpire i tuoi. Cal怎麼了 di amici. Non l'agga sono ancora ancora ora. bella corsa vedi la bacheca dei risultati sul muro è un messa quindi provalo un po' di volte con armi diverse scoprirai come migliorare guardando la bacheca dei risultati ora che ti sei riscaldato se vuoi una vera sfida puoi correre contro altri piloti fantasma un avvertimento però i piloti che hanno registrato questi fantasmi sono i migliori nella SRS se li batti sei a metà strada dall'essere un vero pilota vai avanti e affronta il gauntlet quanto vuoi quando avrai finito ti mostrerò una cosa speciale l'hai fatto con il gauntlet? vediamo che altro c'è bene, questo ti piacerà è ora che impari l'altra metà dell'essere un pilota il Titan chiamiamone uno era ora sono pronto questo è lo spirito ma prima ci serve un altro po' di spazio quello è il mio partner BT classe Vanguard tecnologia della milizia locale il primo telaio Titan progettato da noi fu il primo che non dovemmo rubare all'IMC forza fuciliere chiama il tuo primo Titan guarda su, in cielo eccolo va bene fuciliere, sembra che la situazione peggiori ti tiro fuori spegnimento di tutti i sistemi non essenziali super, preparati calma Goll è appena uscito dalla simulazione serve un minuto per la decompressione sarà pronto a partire fila di sì signore personale alle postazioni di battaglia non è a me del cittadino occhio ci uccidono o almeno ci provano ottima sessione vedrai che ci farai la mano ti faremo diventare un pilota fuciliere ma non oggi non c'è tempo lastimosa è in del suo di puttana ci vediamo laggiù oggi vedremo un nuovo pianeta e forse ci moriremo ci vediamo laggiù Cooper buona fortuna esci dalla capsula Cooper ci vediamo alla navicella da trasporto ciao